Buon Natale! Happy New Year! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! L'opportunità, ringrazio per l'opportunità che mi viene nata del Porge degli Auguri alla cittadinanza di Pertonesa l'auspicio è che sia un Natale sereno nonostante le difficoltà come i sedi stanno vivendo nel mondo almeno questa parte dell'anno viva la concertabilità all'interno della famiglia all'interno della comunità, delle singole comunità cittadini 2011 si conclude sicuramente in una maniera meno felice di come tutti quanti noi pensavamo certo non bisogna battere, bisogna pensare sempre che oggi è un giorno meno bello di domani quindi un futuro rosso per tutti i cittadini una commissione che si occupa al Comune di Crotone di tutto il programma, il progetto delle politiche sociali ai cittadini di Crotone il più felice Natale una festa religiosa che ci deve accomunare tutti che deve guardare avanti verso la resurrezione, verso la speranza la speranza che i cittadini possono ottenere dal 2012 quello che è nel loro animo la possibilità che i figli possano lavorare la possibilità che si stia meglio di salute anche il nostro ricordo in questo momento per il saluto e l'abbraccio hanno le persone che sono in questo momento ferme, detenute che devono superare un momento di difficoltà che hanno raggiunto nella vita ma che possono farcelo con grande attenzione ascoltando il cuore della famiglia che possono mettere da parte gli errori che sono stati intrapresi per andare ad abbracciare la speranza la speranza di un futuro più saggio, più sereno e poi il nostro anche accorato appello, vicinanza nei confronti degli ammalati che sono negli ospedali, negli istituti privati a tutto loro va il nostro fraterno abbraccio per dire che siamo vicini a loro con la speranza che tutto possa risolversi per noi un 2012 che possa portare un sorriso per tutti una migliore organizzazione strutturale sul piano anche politico, sul piano sociale un piano culturale di questa città che ha bisogno di crescere e crescere con intensità auguri a un felice 2012 da parte di Filippo Esposito da parte del resto dell'amministrazione comunale guidata da Peppino Vallone da parte della Commissione Sociale che tanto sta facendo, tanto sta sostenendo le ragioni dei cittadini che bisogneranno sempre la città di Cotone di Cotone di Cotone di Cotone Grazie a tutti.